Musica Buonasera, buongiorno, salve a tutti i gentili telespettatori Eccoci qua oggi, 38 giugno, per questa falsamente intellettuale rubrica Il fumetto del mese Dopo attenti studi, insieme alla nostra equip di esperti del settore Possiamo assicurarvi che il titolo che abbiamo scelto da consigliarvi È sicuramente il più adatto tra le uscite del mese di giugno, per l'appunto Possiamo quindi vedere i nostri esperti all'opera Mentre analizzano la situazione Famosissimi esperti, come potete vedere Conosciutissimi in tutto il globo terrestre Bando alle ciance, quindi ecco la presentazione, senza indugio, del fumetto di giugno 2013 Dunque il vincitore è Drago Nero Nuova serie fantasy, targata Bonelli Disegni decisamente buoni Darei un punteggio in scala 1 a 10 8 Drago Nero, uscito inizialmente come primo romanzo grafico Bonelli È stato finalmente annoverato tra le testate mensili della casa editrice milanese Dunque da qui in studio è tutto Gentili telespettatori Buona serata, pomeriggio, mattina a tutti voi Buona serata, pomeriggio, mattina a tutti voi Buona serata, pomeriggio, mattina a tutti voi